L'ambito del quadraro vecchio, del pigneto, di Centocelle, di Casalbertone, una parte di Ostia Antica, sono solo questi alcuni esempi di zone che stiamo trattando con i colleghi dell'agenzia, ma naturalmente con l'input dell'assessorato, della Commissione Mobilità, del Dipartimento Mobilità e in collaborazione anche con altri dipartimenti, per la realizzazione delle cosiddette isole ambientali. L'isola ambientale, provo a definirla in maniera semplice e intuitiva, la rete viaria, la rete stradale, è classificata in un certo modo dal piano generale del traffico urbano, che definisce una rete viaria principale, una rete viaria cosiddetta locale. La classificazione dipende dal ruolo, dalla funzione che ha ciascuna strada e dalle sue caratteristiche geometriche. Un'isola ambientale è definita come un ambito racchiuso all'interno di una maglia della viabilità principale caratterizzato da strade e funzioni esclusivamente locali, cioè un ambito che dovrebbe essere destinato ai residenti o comunque molto più in generale agli utenti deboli, cioè ai ciclisti e ai pedoni, ma anche ai bambini anziani che vivono in quella zona. L'intervento che stiamo realizzando per l'attuazione delle isole ambientali riguardano principalmente una definizione dell'ambito, dopodiché riguardano l'eventuale studio e l'eventuale revisione dello schema di circolazione, delle discipline di circolazione attuale, per che si possa definitivamente evitare il cosiddetto traffico di attraversamento, cioè il traffico che non utilizza la viabilità principale ma utilizza una serie di vie traverse e impegna, di fatto interessa, un ambito che invece dovrebbe essere lasciato in pace sostanzialmente, cioè dovrebbe essere dedicato esclusivamente agli spostamenti locali all'interno dell'isola ambientale. Dopodiché che eventualmente si fanno le modifiche delle decisioni di circolazione. Queste modifiche si associano poi alla realizzazione di una serie di interventi quasi sempre di ampliamento degli spazi dedicati alla pedonalità e alla reciprocabilità all'interno delle isole ambientali, fino ad arrivare alla realizzazione di spazi completamente vedonali, molto spesso situati nel cuore di ciascuna isola ambientale, laddove si svolgono le funzioni principali del quartiere, laddove possono essere realizzati quegli spazi aggregativi, ricreativi, ma anche commerciali che caratterizzano appunto quella zona, il quartiere e lo rendono più vivibile o comunque sicuramente più vivibile di quanto non sia stato negli ultimi anni quando appunto, un po' per scelta direi, è stato, sono stati dedicati, è stata dedicata la maggior parte degli spazi agli spostamenti motorizzati e ben poco, ben poco alle utenze più deboli, cioè a pedoni ciclisti. L'operazione è anche una, diciamo, un'operazione di redistribuzione appunto degli spazi perché, insomma, siano, diciamo, riservati in maniera più equa alle diverse componenti. Evidentemente un ambito locale dovrebbe essere caratterizzato da strade per lo più pedonali, per lo più, diciamo, strutturate per servire gli spostamenti in ambito locale che non necessariamente, forse non devono avvenire utilizzando dei, diciamo, dei veicoli a motore. Quindi questa è un po' la filosofia. Il piano generale del traffico urbano ci aveva un po' indicato, già da qualche anno, la necessità di strutturare l'intera zona del centro storico in isola ambientale. Dopodiché queste indicazioni del piano generale sono state poi recepite dal PUMS, cioè dal piano urbano della mobilità sostenibile, recentemente adottato dall'Assemblea Capitolina, che ha proposto un vero e proprio piano delle isole ambientali che prevede circa 80 zone da strutturare in una o più isole ambientali ciascuno. Chiaramente la realizzazione di isole ambientali dà un po' dà una possibilità in più al quartiere, una possibilità di rinascita di fatto. Molti quartieri che noi conosciamo sono oppressi, per esempio, dal traffico di attraversamento, veicoli che anche attraversano queste zone, mettendo a rischio naturalmente il transito pedonale, gli identi più deboli in particolare, attraversano queste zone ma senza, diciamo, essere diretti in queste zone e né provenire da queste zone. Di fatto li attraversano per evitare, diciamo, le strade principali spesso un po' congestionate. Questa qua è un po' la tendenza, laddove però le discipline di circolazione non siano ottimizzate. Stiamo facendo proprio quello, cioè stiamo rivedendo gli schemi, stiamo rivedendo gli spazi, ma stiamo rivedendo per lo più la logica, diciamo, di attribuzione degli spazi all'una o all'altra componente. Chiaramente tutto questo, diciamo, questi interventi portano a una, da un lato, come dicevo appunto, a una maggiore vivibilità degli ambiti, da un lato a una riqualificazione di quegli ambiti a favore, diciamo, dei residenti e dei locali, ma soprattutto portano a una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. Se non altro definire gli spazi, aumentare gli spazi pedonali, definire meglio gli spazi riservati a questa, a quella componente, naturalmente garantisce dei livelli di sicurezza molto più alti e garantisce una maggiore fruibilità dell'ambito urbano da parte degli utenti deboli. Questo è un po' l'obiettivo, può sembrare, diciamo, scontato, però in tanti anni di politiche che mettevano al centro l'automobile, forse ci siamo dimenticati dei residenti, dei pedoni, dei bambini, insomma, di quelli che in realtà hanno più diritto a vivere le loro strade, a vivere la città di fatto e che sono più esposti evidentemente ai rischi, insomma, connessi con il traffico stradale. Quindi, altra cosa molto importante è che la realizzazione di spazi pedonali, l'ampliamento degli spazi, la messa in sicurezza dei percorsi pedonali fa sì che si realizzino di fatto nuove opportunità per quanto riguarda le attività commerciali e locali e soprattutto si realizzino degli nuovi spazi di aggregazione. C'è un nuovo modo di vivere la città che favorisce appunto le relazioni sociali, oltre agli altri aspetti di cui parlavo, cioè alla sicurezza e alla qualificazione dell'ambito urbano.